Attenzione, questo giro di video nuovece gravamente sono saluto del vostro portafoglio Bella raga, eccoci qua sul canale perché torniamo a spacchettare la raccolta DrainXL2425 perché come ben sapete io sono ancora parecchi dietro con questa raccolta Infatti oggi signori torniamo a spacchettare, ma cosa torniamo a spacchettare? Torniamo a spacchettare delle bustine perché avevamo aperto mezzo box nell'ultimo video in cui faccio mangiando gli hamburger del McDonald's e quindi mi sono rimasti da questo box ancora 12 pacchetti tra l'altro questo box era il box da cui abbiamo trovato il Le Momentum di Danilo Precisamente questa card qui di Danilo, card molto molto rara che vale all'incirca sulle 30, 40 o 50 euro Tecnicamente da queste 12 bustine in teoria dovrebbe ancora uscire il top player e a me di top player me ne mancano ancora tanti anche perché di top player effettivi ho trovato solo Chala Nogu perché poi Lautaro è un super top player, la card campioni non è un top player quindi di top player ho trovato solo Chala e pure doppio Poi raga, a fine video per i più malati di collezionismo andremo a spacchettarci 3 bustine premium da 5 euro Ricordo che all'interno si può trovare l'esclusiva card limited edition solo di questi pacchetti Chissà che non ci riesca qualche firma cioè io non voglio tirarmela però raga se mi esce una firma Prima di cominciare a spacchettare vi ricordo di iscrivervi al canale ma soprattutto lasciare like se volete un box premium spacchettato tutto in un unico video ricordo che il box costa 100 euro Ovviamente vi invito anche a seguirmi su TikTok ma soprattutto su Instagram vi lascio il link sotto in descrizione su Instagram vi lascio sempre aggiornati su tutto quello che accade nel mondo panini e nel mondo tops e poi vi porto con me negli stadi Signori i pacchetti li abbiamo detto questo non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo a spacchettare Collezionisti eccoci qua pronti per terminare di spacchettare queste 12 bustine del box che aveva aperte durante lo spacchettamento del McDonald's più queste 3 bustine calciatori premium ricordo pacchetti da 5 euro con all'interno dell'esclusiva card limited edition Io ovviamente so già da cosa cominciare quindi non sto qua a perdere tempo anche perché queste 3 le lascio per i più mati di collezionismo solo a fine video Se siete malati rimanete fino alla fine Magari nei commenti datemi qualche idea di qualche challenge che potrei fare con questi pacchetti Si potrebbe fare letteralmente qualsiasi cosa quindi datemi voi delle idee che magari la migliore la farò Andiamo a prenderci intanto queste 12 e ripeto 12 bustine In cui ripeto che in teoria dovrebbe uscire una card top player Anche perché come vi ho detto io solo c'è la no glue Quindi adesso non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo subito con il fucking primo pack Dai dai e dai Guarda ci scommetto qualsiasi cosa che non mi uscirà mai il top player da questi 12 pack Comunque pezzella che dico va bene Gendry del Lecce, Mihaila in men versione diabolici Prati versione diamante Il codice che ovviamente ve lo lascio è vostro come sempre Bellemo che non gioca più al Como E Radunovic quindi partiamo veramente malissimo Dai pacchetto fucking dopo vediamo cosa ci esce Più che ma del Bologna Valenti che è l'autaro È il terzo l'autaro che conosco Oltre all'autaro Giannetti l'autaro Valenti ma soprattutto c'è l'autaro Martinez Poi un giocatore della Las Verona Svilar guanto d'oro Codice che ovviamente anche in questo caso vi regalo Quame della Fiorentina e Perisano portiere dell'Empoli Meh, meh, questi primi due pacchetti veramente li fanno veramente sboccare Questa è la parola giusta Roberto Il Gaia Miranciuk dell'Atalanta Federico Picchi... Federico Chicco Chiesa Super Stella Bondo Diamante Ok, codice che anche in questo caso vi regalo come sempre Oden del Lecce E Mattia Zaccani il numero 10 Scrollatina tattica Vediamo che magari porta bene Non lo so, vediamo Suslov dell'Ella Sverona Zielischi versione Energy Poi abbiamo il codice Passiamo poi a Andrea Colpani che avrò gioco alla Fiorentina Tomori del Milan Henry dell'Ella Sverona E Gudmundson Ammazza, oh che schifo sti pacchetti Cioè va bene che è un box da cui uscita la Momentum Però, oh Puoi anche darmi qualcosa di meglio, eh Venuti del Lecce Success dell'Udinese Del Prato Influencer Scudetto della Juventus Poi abbiamo il codice Shesny della Juve E Lautaro Il Toro Martinez Capitano di questa Inter Madre mia si fa sboccare, oh Mamma mia Oh, un pacchetto peggio dell'altro Christensen della Viola Ferguson Superstella Che dovrebbe anche mancarmi tra l'altro Codice Nico Gonzalez Che ovviamente gioca la Fiorentina Fazzini dell'Empoli Miretti della Juventus E Alessandro Bastox Bastoni Cioè ci mancano sei pacchetti Abbiamo letteralmente spacchetto i primi sei E i primi sei Ovviamente non ci hanno trovato nulla Vigorito del Como Gerry Mina del Cagliari Ciuquese Sempre del Milan Poi abbiamo un po' di scartoffi Regole del gioco Ciuana dell'Energy Passiamo poi al codice Hernani del Parma E Cajuste del Napoli Che già ho Ma io mi dico Panni Ma cosa ti ho fatto di male Per non farmi uscire neanche mezzo top player Oltre a Cianoglu Che tra l'altro me l'hai fatto orale Doppio Vabbè Andiamo avanti va Le femme versione Energy Scudetto dell'Udinese Il codice che come sempre ve lo regalo Milicovic Sauci del Torino Zaleschi della Roma Mamma mia Un pacchetto tutto doppio Anche Sirze E soprattutto Ederson Che ho già tipo dieci volte Che fatica raga Che fatica a fare l'influenza sull'Ecardo Sottil sempre della Fiorentina Brian Cristante della Roma Moise Ken Energy Questo dovrebbe mancarmi in teoria Scudetto Logoplast del Bologna Poi abbiamo il codice Passiamo a Lucas Cassis Lucas Santiago Castro del Bologna E a Demola Luquman dell'Atalanta Boh vabbè ragazzi Ci mancano tipo tre pacchetti E non credo ci uscirà qualcosa Però vabbè Andiamo avanti Simon Son del Parma McKennie della Juve Obert del Cagliari Poi abbiamo Zagnolo versione Energy Il codice Poi abbiamo Perilli della Las Verona E concludiamo con Badei Ormai Regani non ci credo più in questi pacchetti Dobbiamo puntare tutto sulle bustine premium Sono tre pacchetti per 15 euro Speriamo Locatelli che ovviamente ce l'ho Duda che dovrei avercelo Tiago Diallone Dovrei avercelo non lo ricordo Scamacca versione Influencers Il codice Passiamo poi a Federico Barba del Como E Matteo Prati Ultimo pacchetto E poi passiamo a quelle tre Lì premium tutte belle nere Vediamo che magari ci dà una gioia Non penso Scartoffie varie Lazzovic versione Influencers Scudetto dell'Atalanta Che la numero uno doveva mancarmi Almeno una gioia Questa mi manca Codice Poi abbiamo il Douglas Lewis Della Juve Passiamo poi a Enric Mkhitaryan Sempre dell'Inter In questo caso Da Cugna del Como E Zito L'UVU Piacere Zito 12 pacchetti Che sono letteralmente Uno peggio dell'altro Quasi Hanno fatta gara A chi facesse un po' più schifo Quindi Va bene Portiamo a casa Ora signori Se siete rimasti Fino a questo punto del video Vi siete meritati Di vedere Cosa uscirà Da queste tre bustine premium Dall'andazzo al video Penso nulla di buono Però Vediamo Intanto le limite Quasi tutte mi mancano Quindi male male Non può andarmi Vediamo 5 euro Ricordo 5 euro Intanto vedo Calabria Che non è un buon partire Davide Calabria del Milan Anderson della Venezia Capriglie del Napoli Poi abbiamo il codice Che ovviamente vi regalo Colpani Superstella Perlomeno mi manca Diabolici della Roma Occoi e Guanto d'Oro Del Udinese Musà Diamante Scalvini Limite di Edition Portiamo a casa E Montipò Concludendo con Pietro Piotr Zilischi O perlomeno Raga Scalvini mi mancava Cioè Non c'è tanto a dire Però mi mancava Secondo pacchetto premium Vediamo Cosa dovrebbe uscirmi Adesso Esias del G Genoa Romagnoli della Lazio Sempre del Como Poi abbiamo il codice Passiamo poi a Cagliode Talento Che tra l'altro Mi mancava Quindi porto a casa Stra stra volentieri Poi abbiamo La Fortezza del Napoli Che ce l'ho Lo scudetto Logoplast del Bologna Tra l'altro Appena ho trovato Diamante Prati Immobile Autografato Il giocatore del Bejic Ex-Lax Lo troviamo In una sua versione Autografata Molto molto interessante Mettiamola qua Insieme a Scalvini Chiesa E Di Marco Signori Cosa dire È l'ultimo pacchetto Il top tier Sono abbastanza certo Che non ci uscirà Ma vediamo La Limit Edition Che ci uscirà fuori Mario Pasaric Dell'Atalanta Ruslan Malinoski Del Genoa Linetti Del Torino Nico Gonzale Super Stella Che mi manca Quindi porto a casa Anche se non gioca più La Fiorentina Poi abbiamo L'influencer Gerry Mina Poi ci troviamo Il Gallo Belotti Energy Che porto a casa Perché tanto mi manca Aslani Diamante Christian Pulisic Limit Edition Questa è una delle uniche Limit Edition Che già ho Quindi lo spacchettamento Ha fatto letteralmente pena Oggi Ma va bene Iovine del Como E Ismaili dell'Empoli Signori Queste sono le tre Card Limit Edition Che mi sono usciti Da questi tre pacchetti Pulisic già ce ne avevo Mentre Scalvini Ma soprattutto Ciro Immobile Invece mi mancavano Tra l'altro Ciro Immobile Nella sua versione Autografata Gran bella card Lo spacchettamento in sé Devo dirmi che è Letteralmente insufficiente Ora vi faccio vedere Come sto messo con il top tier Perché secondo me Non ci credete Per come sto messo Ovviamente Ho spacchettato Fino ad oggi Quattro box E cioè Non è che non è uscito niente Qualcosa mi è anche uscito Tra l'altro Sistema ancora tantissime card All'interno del raccoglitore Ma intanto La situazione del top player Devo dire che è abbastanza tragica Come ho detto Tra l'altro La card campionale Nella Nogu Che in realtà è pure doppia Mi mancano queste quattro qua Tutte top player E poi abbiamo la card trofeo Tra l'altro anche l'hai trovata doppia E la super top player Di Lautaro Martinez Fatemi sapere con un commento A che punto sto con questa raccolta E detto questo Vi ricordo di lasciare i like Iscrivervi al canale E detto questo Vi lascio direttamente Al prossimo video